Siamo alla pausa del secondo livello di oggi e siamo in compagnia di Andrea Benelli. Andrea, benvenuto. Grazie. Come stai? Quante fiche abbiamo? Ma oggi sono partito abbastanza male, 17.000, un dei uno diciamo disastroso. Poi oggi sono salito uncontested fino anche a 58-60.000, poi ora ho perso due colpetti. Comunque il tavolo è ottimo e sto giocando bene, quindi sono fiducioso. Quante ne hai? Adesso ho 48k. Ok. Andrea, come sta andando questo main event, queste World Seekers? Il day 1 ho avuto un tavolo facile, anche il day 1, però non ho mai tato, ho avuto davvero due livelli, gli ultimi due livelli veramente sofferti. Beh, sono rimasto lì, sono stato contento di non aver tiltato e alla fine la pazienza mi ha pagato, sto risalendo, non è che ho fatto niente, però insomma sono sempre dentro e l'importante, come si dice, è esserci. Esatto. Quindi vediamo stasera se faremo qualcosa di buono, tireremo le somme e poi andremo avanti. Bene, bene, un gruppo di italiani ben nutrito, ieri ne sono passati abbastanza dal D2B e dal D2A, oggi ce ne stanno ancora dentro tanti. Come prevedi questi italiani in gioco, come prevedi qualcuno al tavolo finale? Beh, io ho parlato anche con Dario, San Martino, che siamo stati tutti insieme al Bellagio quest'anno. Per me gli italiani faranno bene quest'anno al main event, però è una mia impressione, io lo spero perché sono italiano e quindi è. Però secondo me gli italiani alla fine sono venuti molto avanti nel No Limit Holden, quindi insomma penso che vadino bene. Va bene, va bene. Allora ti ringrazio in bocca al lupo per questi altri tre livelli di oggi e un saluto a Poker Factor. Un saluto a Poker Factor, grazie di tutto. Un saluto a Poker Factor